Nella sala consigliare di Via Verdi gli 80 giovani studenti napolitani, protagonisti dell'Assemblea plenaria del MEP, la simulazione del Parlamento Europeo, hanno discusso e votato le loro 10 risoluzioni che porteranno in novembre a Roma per la sessione nazionale del progetto. Il sogno degli Stati Uniti d'Europa e il dovere di far vivere la nostra Costituzione italiana sono stati i passaggi centrali del discorso del Sindaco dei Magistris alle ragazze e ai ragazzi delegati della sezione regionale MEP. Un invito a tenere presente, più di quanto non abbia mai fatto la politica italiana, la centralità del progetto di Un'Europa dei diritti che vive, ha detto il Sindaco, su gambe, passione, cuore e cervello dei giovani. Un invito ai ragazzi a misurarsi con l'Europa, anche nelle scelte di vita, sapendo quanta importanza ha Napoli come punto di riferimento dell'Europa nelle politiche del Mediterraneo. Quattro scuole superiori di Napoli protagoniste dell'iniziativa, liceo classico Panzini, lo scientifico Tito Lucrezio Caro, il convitto nazionale Vittorio Emanuele II e lo scientifico Salvatore Di Giacomo. I lavori dell'Assemblea plenaria hanno visto anche i saluti del Presidente della Commissione Scuola del Consiglio, il Preside del Panzini, Salvatore Pace, e della responsabile del Centro Europeo per la Cultura e Cittadinanza del Comune. Dieci le risoluzioni discusse e votate dai ragazzi, tutte su argomenti centrali del lavoro del vero Parlamento europeo, dalla strategia europea di crescita per il 2020, per la crescita della necessità di una piattaforma europea contro la povertà, dallo spazio ferroviario europeo unico all'eliminazione degli ostacoli, all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione Europea. Grazie a tutti.